poi l'altro attacco ricordati, eh bravo si, l'altra volta ho fatto un'altra, mecavola, qua è tutta salita mannaggia, mannaggia, provata, ok, posso fare le pelle e le pelle? c'è una tecnica io per staccare e mettere le pelle, ok, ok, va, hike mode, piscani aperti, ci siamo, ci siamo come partenza non male, eh, non male partenza, ma che spettacolo, baradello da freeride allora il mio record è 1 ore 0 ore, ma non ce la farò se punti il record, mi aspetti su dopo 6 pandori il record lo farò uno dei collettieri che viene, mi godrono in casa si, si, ma che bella non so se sentisci ogni tanto per fare esistenza si, è lo zoccolo è lo zoccolo, perché? quello si leva con la sciolina ah, lo zoccolo che ha fatto sotto la pelle ah, è vero, è vero infatti sentivo sotto lo scarpone come se facesse attrito devi mettere la sciolina sulla pelle si, ma te lo fai tu o lo fai fare? no, lo dicono proprio se hai la sciolina questa è una degna conclusione delle vacanze partita bene, finita bene oh, va caldo, fa caldo, eh cioè, siamo partiti a tuono e quelli c'hanno superato ho due cellini come cartucce si, puoi allenare a ritmo si, però la salita il trailer non ti posso oh, cosa vuoi? cioè, se mi scarichi l'orologio adesso so che macchina hai sto salendo con gli sci dalla pista della prica e mi vieni a chiamare te che non mi hai chiamato per l'ultimo anno non vedo più ciao intermedio metà pista due chilometri e mezzo tipo gelino della dinamo qua bombarda poi passiamo tipo col carrellino seguendo siamo quasi ultima curva e ultima rampa un chilometro è dura di sangue un chilometro ma su c'è il palettore il cotecchino c'è niente sarà tutto chiuso sono saltati gli schemi un po' Sì, sì, sì è dura? yes dura ma ci siamo e dopo spettacolo ma che pista fuori pista guarda Cristian spettacolo guarda andata bravissimo ok stai morendo inizio la fiesta buona mamma mia sfoderiamo un bel raggio 21 qua quando ti fermi arrivano dei crampi eh sì sale cañolini stai salendo il cendente bella Cristian ti riconosco perché sei illuminato siamo fradici come non so che cose ciò fanno le gambe bisogna lasciarle andare se no è dura non ce n'è qua e neanch'io neanch'io infatti mi son fermato a pulire gli occhiali perché è un disastro sono contento che farò parte dei tuoi ricordi più memorabili sì 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 soprattutto le ultime due uscite proprio ma il bello è che domani tutta questa attrezzatura sarà inutilizzabile per almeno c'è davanti alla stufa ma peserò adesso 10 kg in più vedo assolutamente niente no forse un po' meglio un po' meglio ma come picchia mamma mia eccolo picchia fortissimo quella punge la neve ah hai spento la torcia eh sì infatti non ti riconoscevo ebbè ti lanci hai provato a entrare nella neve fresca? è colla sono entrato nel vinaville nooo nel vinaville ragazzo la sciolina non va più in piedi ti ho superato in piedi bello 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 arrivati te la guarda allora va allora allora